Siamo in un posto nuovo. Sei almeno un po' curioso. Se state cercando principi o principesse, siete nel posto sbagliato. Solo un vecchio castello abbandonato. Entriamo. Sono arrivati due ragazzini nuovi. Potrebbero essere davvero loro i prescelti. Dovete aiutarmi. Perché dovremmo risolvere un indovinello? Per dimostrare di essere i prescelti e trovare le chiavi. Ricordati che le chiavi devono tornare nelle nostre mani. Oltre ad essere cambiato il castello, è scomparso Castelcorvo. Quei fantasmi esistono, io ci credo. Correte! Un cavaliere è votato a coraggio. Il suo cuore conosce solo la virtù. Cavalieri? Cavalieri! Cosa ci potrà mai capitare qui a Castelcorvo? I Cavalieri di Castelcorvo. In streaming dal 6 novembre su Disney Plus.